Aveva applicato un rincaro del 410% sul prezzo di acquisto di mascherine monouso, vendendole al costo di 5 euro. La Guardia di Finanza di Lecce ha sequestrato nel capoluogo quasi 2.000 mascherine pronte ad essere vendute con un extra profitto di 6.000 euro. Il titolare di un'attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sanitari e medicali nei pressi del Vito Fazzi di Lecce è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per manovre speculative su merci. A Minervino di Lecce è stato individuato un consorzio agrario che commercializzava al dettaglio mascherine, peraltro risultate non conformi ai livelli di protezione e agli standard qualitativi pubblicizzati sulla confezione. Ben oltre 3.500 le mascherine sequestrate. Il titolare è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di frode nell'esercizio del commercio. La Guardia di Finanza invita i cittadini a contattare il 117 attivo 24 ore su 24 per segnalare qualsiasi irregolarità economico finanziaria osservata in questo settore.